Un caso della variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto. Una sequenza parziale è stata individuata dal laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Ancona. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore. Ora è in isolamento con i due familiari e l'ASUR ha avviato un'indagine epidemiologica per tracciare la mappa del contagio. Intanto oggi si è concluso lo screening di massa nei capoluoghi di provincia ad eccezione di Ancona dove proseguiranno anche dal 27 al 29 dicembre. Nelle prime 5 giornate sono state testate oltre 45.000 persone con 221 casi positivi al test antigenico rapido. Ieri a Pesero e Urbino le adesioni sono state più di 13.000. È andata bene, direi che le persone hanno aderito, noi comunque eravamo preparati per fare anche più tamponi sia su Pesero che su Urbino, questo perché l'organizzazione sanitaria logicamente si pone alla massima adesione della popolazione. Comunque non mi lamento, non ci lamentiamo, ieri abbiamo avuto un boom e oggi vedo anche dalla fila che probabilmente ripeteremo e aumenteremo. E sono molti, ha detto la dottoressa, i giovani che hanno partecipato all'iniziativa di massa. Oggi alle ore 13, ha giunto Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1, sono state raggiunte le 2.000 presenze con 18 test positivi. I numeri sono ovviamente in aumento rispetto ai 5 giorni precedenti, anche la percentuale dei test positivi è in leggero aumento. Ritengo che alla fine di oggi e nel consuntivo dei 6 giorni ci assisteremo intorno a una percentuale di soggetti positivi sulla popolazione testata che si aggira intorno all'1% o un pochino meno. Questo significa che circa 1.000 persone nei comuni di Pesero e Urbino all'incirca, totalmente asintomatiche e totalmente ignare di essere infette, lo sono. E quindi costituiscono un pericolo per tutti i loro conviventi, per i contatti lavorativi, per i contatti sociali. Quindi la raccomandazione per tutti è la solita attenzione, restrizioni, mascherina, distanziamento e assoluta consapevolezza del momento molto particolare che stiamo vivendo. È stato uno screening incredibile che getta le basi per la campagna di vaccinazione, ha commentato invece il sindaco Matteo Ricci che questa mattina si è sottoposto al test all'istituto alberghiero. Avere 13.000 persone prima di Natale tamponate è davvero uno screening incredibile e abbiamo evitato che almeno un centinaio di persone, questi saranno più o meno i positivi alla fine, potessero andare a contagiare inconsapevolmente i propri familiari durante le feste di Natale, mettendo a rischio la salute dei più anziani, dei più deboli e quindi di avere un'operazione molto molto utile. È importante, credo, anche un esperimento, se vogliamo, per la grande campagna di vaccinazione che partirà con il nuovo anno.